Questo è Shlommi, la città israeliana più vicina al confine con il Libano. Da ormai un anno a infrangere il silenzio di un abitato quasi del tutto spopolato sono i razzi lanciati verso queste case da Yitzbollah e quelli di risposta dell'esercito israeliano verso obiettivi al di là della vicina frontiera. Lungo le strade ci sono solo mezzi militari. Nel paese ormai vivono una manciata di persone. Oggi è il primo giorno del capodanno ebraico. Incontriamo Immanuel, il suo nome in ebraico, significa Dio è con noi. Va bene un'azione militare, ci dice, ma non troppo in profondità. Vedi, lì prima c'erano le postazioni di Yitzbollah. Voglio che non ci siano più e che non mi guardino più. Entra in casa per celebrare le festività religiose. Il suono dello shofar, il corno che viene suonato nel periodo del capodanno ebraico si eleva come le colonne di fumo tutte intorno a noi. Questo è uno dei bunker qui a Shlomi, dove la popolazione si rifugia sempre più spesso a seguito dell'escalation tra Yitzbollah ed Israele. Ed è stato costruito dopo la guerra del 2006. Ci imbattiamo per caso in Menachem, venuto a dare assistenza ai genitori rimasti nonostante tutto. Arriva la notizia, dal Libano, altri feriti e altri morti. Ma la guerra semina odio e per adesso c'è solo spazio per la sete di vittoria. Noi vogliamo la pace e loro lo devono capire, ma con le buone o con le cattive ci dice non ce ne andremo da qui, questa è la nostra terra e questa è una guerra per difendere la nostra casa. Calerà il tramonto tra poco e inizierà la seconda giornata di Rosh Hashanah nel 363 giorno di guerra.